Nella giornata di ieri è stato pubblicato il trailer di Deadpool e Wolverine, quindi non perdiamo tempo e andiamo a cercare di scoprire cosa ci aspetta in questo film e tutti i dettagli della trama che conosciamo e non sono pochi. Sigla! Sigla! ...vanno a cercare Logan per chiedergli una mano e la stessa cosa gli dice l'autista di andare a fare il culo quando troviamo Deadpool che cerca di convincere Logan che tira fuori gli artigli. Artigli che sembrano tagliati o sembrano non essere tirati fuori del tutto che potrebbe essere questo riferimento a Wolverine alle origini durante il quale Wolverine perde gli artigli che vengono tagliati durante quello scontro con il personaggio giapponese che ha anche le spade di Adamantio. Abbiamo l'ufficialità del villain del film, ovvero Cassandra Nova interpretata da Emma Corrin. Chi è Cassandra Nova? È la sorella dei fumetti, la sorella del dottor Xavier che qui vediamo essere interpretata da una donna ma che nei fumetti non è propriamente di forma umana ecco. Qui ovviamente dovevano per ragioni di messa in scena metterla in scena così secondo me è perfetta. Vediamo che ha degli incredibili poteri e sembrerebbe governare il vuoto, il vuoto che è al centro di questo secondo trailer nel quale troviamo anche diversi riferimenti come nell'altro trailer agli X-Men e a quello che è il mondo Fox quindi troviamo anche Asazel che abbiamo visto nei primi film degli X-Men e la di Deathstroke che ha quegli artigli che riescono dalle unghie. Insomma diversi riferimenti appunto ai primi film degli X-Men come avevamo visto già precedentemente. Una delle nuove cose che ci hanno fatto vedere è lo scontro tra Logan e Deadpool e Wade che è incredibile, i due che non si disparano colpi su colpi, anche colpi bassi nei quali appunto vediamo Wolverine colpire nelle parti basse con gli artigli di Deadpool e lo stesso Wade che infligge centinaia di colpi di pistola a Logan però ovviamente i due sono immortali quindi non si possono uccidere. Questo perché durante una conversazione precedentemente mostrata ci viene fatto capire che Wade ha bisogno di Logan per salvare il proprio universo. Sembra infatti che l'universo nel quale si trova Deadpool stia per crollare ed implodere quindi scomparire definitivamente a causa della morte di un nodo fondamentale che era il custode di quell'universo è appunto Logan, morte avvenuta nel film Logan dove c'è appunto la morte di Wolverine. Questo ci fa capire quanto la trama sia incentrata molto sul multiverso già dalla presenza della TVA nel primo trailer dovevamo già intuire quanto questa sia la colonna portante di questo film proprio perché Deadpool dovrà cercare di salvare il suo universo portando Wolverine con sé per farlo diventare il nuovo fulcro di quell'universo. Non so se ci riuscirà perché questo film dovrebbe essere molto importante anche per il futuro dell'MCU in quanto credo che Deadpool entri definitivamente in quell'universo che conosciamo facendo implodere però di conseguenza il suo. Potrebbe significare che daremo l'addio a tanti personaggi che abbiamo visto nei vari film di Apple e soprattutto quelli che vedremo anche in questo film. Ovviamente anche qui non potevano mancare le frecciatine a Kevin Feige e alla Disney dove la scena della cocaina mi ha veramente spezzato da ridere con riferimenti alla canzone di Frozen e a diversi film cult che comunque associati appunto all'uso della cocaina. È incredibile quanto le parolacce e la violenza e il sangue siano molto frequenti e questo è un bene perché l'essenza di Deadpool che abbiamo imparato a conoscere nei precedenti film non è mancata assolutamente. Anzi probabilmente questo sarà il film più violento dell'MCU ed è un bene perché lo sappiamo quanto Deadpool si incentri appunto sulla violenza e sulle battute volgari sulle parolacce. Continuiamo nella nostra analisi di questo trailer cercando di carpire altri dettagli nel vuoto troviamo quindi a Lyot troviamo un Ant-Man gigante questo casco di Ant-Man gigante dal quale esce appunto Cassandra Nova. Qui probabilmente significa che una delle varianti di Giant Ant-Man sarà morta e sarà finita quindi nell'universo perché se notate bene quando il casco di Ant-Man si apre c'è il teschio all'interno del casco dal quale appunto esce la Cassandra Nova. Qui potrebbe essere appunto questo il significato. C'è un'altra scena nella quale vediamo la macchina che usava teschio rosso nel primo Capitano America sulla quale c'è lo stemma di Iron Man. Inoltre c'è addirittura il cerchio di Doctor Strange a un certo punto questo significa che c'è anche Doctor Strange nel film? Non credo potrebbe essere Chi Wong però potrebbe essere anche un modo nuovo per la TVA di viaggiare fra gli universi. Chissà non sappiamo ancora bene quello che ci aspetta ma sicuramente questo trailer mi ha ancora di più alzato l'hype perché Deadpool e Wolverine sarà sicuramente uno dei film con il maggiore incasso degli ultimi tempi per il Marvel Cinematic Universe in quanto ultimamente lo sappiamo i flop si sono susseguiti uno dietro l'altro e forse il nostro mercenario ghiacchierone potrebbe essere l'unica via di salvezza per fagli e soci. Da questo trailer non capiamo nient'altro e va bene così mi piace già individuare i vari riferimenti e spero ce ne siano altri che terranno nascosti per il film perché vorrei e spero con tutto il cuore che il prossimo trailer che uscirà non ci sveli troppo della trama e che lo scopriremo man mano che vedremo la pellicola però questa idea mi piace e questo Deadpool che gira tra i vari multiversi potrebbe essere interessante perché potrebbe anche incontrare diversi varianti di Wolverine come le varianti di Deadpool sappiamo che dovrebbe esserci anche Lady Deadpool o addirittura il Wolverine interpretato da Daniel Radcliffe sarebbe veramente pazzesco potrebbero usare la stessa stratagemma che hanno usato per Krasinski nei Fantastici 4 magari per poi farlo morire come nel caso di Henry Cavill tanto agognato Wolverine che molti speravano di vedere potrebbe magari apparire come un diverso Wolverine di un altro universo. Ragazzi per ora da questo trailer non possiamo estraporare altro anzi se avete notato qualcosa di interessante fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere voi cosa ne pensate perché sinceramente mi ha veramente veramente fomentato. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui vi ricordo di mettere mi piace al canale e iscrivervi seguirci sulle nostre pagine social e facebook trovate tutto in descrizione qui sotto. Grazie a tutti da Ciacchiazione e da Valerio Perrone. Ciao